Appreso ormai delle dimissioni di Lombardo a luglio, già si pensa al futuro e al rinnovo della macchina di governo della Regione. Già pronto a farsi avanti Gianfranco Micichè, da tempo col pallino della Presidenza della Regione. Non posso rinunciare alla candidatura che ho promesso e annunciato da tempo, sarebbe da parte mia ridicolo, dice il leader di Grande Sud. Parleremo con le altre forze politiche della possibilità di realizzare questo sogno, recuperando aggiunto tutta l'area del centro-destra, che qui in Sicilia era fortissima, e può tornare ad esserlo. A chi gli chiede se una futura coalizione per le regionali comprende anche l'Udc, Micichè ha risposto, quando dico che bisogna recuperare l'antica area del centro-destra sicuramente penso anche all'Udc, ma non sto facendo nessuna anticipazione, parlerò con i vertici di questi partiti e vedremo cosa si può fare. Ancora Lombardo comunque sta al suo posto e parla di rimpastino, della sua non partecipazione e manifestazione antimafia e del suo futuro. Grande dramma per il rimpasto. Io ho detto che uno, c'è una casella da coprire, che è quella della famiglia e del lavoro, politiche delicatissime ovviamente in questi tempi di crisi. Si è dimesso l'assessore di Betta perché ha reagito al fatto che si leggeva sulla stampa che giorno per giorno sarebbe stato sostituito da altro assessore. Benissimo, sarà sostituito anche l'assessore di Betta. Non è che ci sono rimpasti per cui si caccia qualcuno perché al suo posto c'è un altro che fa meglio di lui il suo lavoro. Se c'è un assessore, voglio dirvi, che magari ha fatto il tecnico per due anni, qualcuno ci ha perso, nonostante si favoleggi di grandi stipendi per gli assessori piuttosto che per il Presidente, al quale offrono di andare a fare un lavoro ben retribuito, all'occasione e magari non si ripresenta fra due mesi. Ma non c'è dubbio che io comprendo perfettamente che costui cambi mestiere da un momento all'altro. E in quel caso noi lo sostituiamo. Io non andrò come non sono andato dal 29 marzo del 2010 a nessuna manifestazione di commemorazione di vittime della mafia. Mi spiace doverlo dire perché per la verità non l'ho detto, ma questo governo, questo governo in questi quattro anni ha sviluppato l'azione antimafia senza precedenti nella storia dei governi siciliani. Scusate l'immodesti. Devo dirle che vedo il mio futuro e vedendo il mio futuro vedo una vita più tranquilla, con meno sofferenza e con meno fatica, per la quale indubbiamente ci saranno mille cose che mi condizioneranno. Finalmente cominceremo a tener conto di qualche mia vocazione e della mia famiglia.